Alle 4.30 di questa mattina una telefonata giunta alla centrale operativa del comando Compagnia Carabinieri di Termoli aveva segnalato rumori sospetti provenire dal deposito dei mezzi della società ANAS. Dunque è partito subito un equipaggio che, arrivato sul posto, ha trovato un escavatore di grandi dimensioni con il motore acceso e verosimilmente pronto per essere caricato su un trattore stradale, parcheggiato nello stesso piazzale che si trovava poco distante. Immediate le ricerche dei malviventi che però non hanno portato a nulla, degli stessi infatti i carabinieri non hanno trovato traccia nella fuga. Sono stati probabilmente favoriti anche dalla folta vegetazione che circonda l'area. I primi accertamenti dei militari hanno poi permesso di verificare che l'intento era quello di rubare l'escavatore e altro materiale stipato in un ricovero attrezzi e già predisposto per essere caricato sull'autocarro che era parcheggiato nel piazzale. L'escavatore ha un valore commerciale di oltre 100.000 euro. Il furto avrebbe dunque arrecato un serio danno alla società proprietaria. L'autocarro invece, un Iveco 35, è risultato provento di furto perpetrato a Molfetta lo scorso aprile. I proprietari sono stati rintracciati e dopo poche ore hanno raggiunto il comando di via Brasile dove gli è stato restituito il mezzo per il quale hanno tirato un sospiro di sollievo potendolo nuovamente utilizzare nella propria attività lavorativa.